L'inarrestabile Scannone tornerà in campo questo pomeriggio. La formazione di coach Sacripanti si dedicherà ad un richiamo atletico agli ordini del professor Silvio Bernabà, chiamato in causa dal tecnico di Casa Citigas al termine dell'ultimo incontro casalingo contro Varese. Il preparatore dovrà lavorare sul fisico e sui muscoli dei giganti irpini ed avrà il compito di far ritrovare le energie agli acciaccati, in particolar modo ad Alex Hacker. L'americano contro Varese ha calcato il parquet per appena 16 minuti, mentre la settimana precedente contro Bologna non era proprio sceso in campo. Il numero 9 della Scannone non è sembrato essere in grande spolvero e coach Sacripanti ha preferito preservarlo. Nicola Alberani, sempre molto vigile sul mercato, è alla ricerca di un elemento in grado di poter sostituire la guardia statunitense. Difficile pensare, viste le condizioni fisiche del californiano, che i biancoverdi possano regalare un uomo agli avversari durante i playoff. Quindi o Hacker sarà pienamente recuperato, oppure lo si alternerà con una polita assicurativa. Gli irpini sono alla ricerca di una combo guard. Piace Rammel Carri, ma l'ex biancoverde è in Libano e non può uscire dal contratto, se non dietro pagamento di buyout. Era stato offerto anche Willy Warren, reduce dal campionato in Cina, ma la tipologia di giocatore non garba lo staff tecnico avellinese. Alberani sarebbe seguendo anche altri elementi, ma tutti i giocatori sono sotto contratto con altre squadre europee. Entro questo mese sicuro accadrà qualcosa, bisogna soltanto aspettare per prendere l'occasione giusta.